Non è che si può fare un registro delle persone che sono affette da disturbi mentali. È un po' difficile per questo tipo di patologie perché anche sono legate molto spesso allo stigma. Cioè è difficile che le persone siano portate a far emergere questa loro condizione di disagio e quindi siano portate ad essere riconosciute. Sono disturbi molto diversi l'uno dall'altro e che hanno anche un contesto sociale, delle caratteristiche anche legate allo stile di vita, allo stato socio-economico, a quello che appunto poi la vita effettivamente porta in una persona o nell'altra, perché poi la depressione sicuramente è legata a certi periodi di ciascuno, per cui è difficile andarla a intercettare in una maniera più facile come può essere per altre patologie. Penso per esempio a patologie organiche come il diabete, in cui tu hai un codice di esenzione, le persone che hanno un diabete hanno quell'esenzione e quindi attraverso il sistema delle esenzioni riesci a stimare una prevalenza che sia molto vicina alla realtà. I dati epidemiologici a nostra disposizione sono dei dati che provengono da campioni e che ci danno un po' una fotografia di com'è la situazione della salute mentale nel nostro paese. Possiamo dire che gli ultimi studi che sono stati effettuati sono sempre studi che provengono da piccole realtà, ma a livello nazionale abbiamo appunto dati che provengono da indagini campionarie. Comunque già da queste indagini campionarie emerge una situazione che è già ben nota, ovvero che alcune patologie sono prettamente a carico del sesso femminile e quindi penso alla depressione, ai disturbi d'ansia, alle fobie, agli attacchi di panico, ai disturbi legati all'alimentazione. Si cerca comunque in questo modo di avere una fotografia un po' più realistica della popolazione, andando però a selezionare persone che hanno avuto accesso ai servizi sanitari o persone che sono in trattamento. Il sistema SISM è un atto istituzionale molto importante che risponde a uno dei tasselli che a livello internazionale si è deciso per poter avere un monitoraggio e uno studio dei problemi di salute mentale nel mondo. D'altra parte i dati che invece emergono da questo sistema sono dei dati coerenti con la letteratura internazionale e quindi coerenti anche con quello che viene raccolto da altri sistemi informativi dello stesso tipo, ovvero che i disturbi psichiatrici, mentali, che si distribuiscono nella popolazione umana non si distribuiscono in maniera uguale negli uomini e nelle donne. Ovviamente la variabilità di questi disturbi, del loro esordio, delle loro manifestazioni è enorme, cioè c'è una variabilità interindividuale enorme, però si vedono dei trend, delle tendenze. Per esempio noi analizziamo i valori dell'incidenza, per esempio i nuovi casi che arrivano ai servizi in un certo anno e vediamo che il loro andamento si discosta da quello che noi ci aspettiamo attraverso l'analisi delle prevalenze, quindi diciamo di quello che abbiamo descritto prima, di come è la popolazione che accede ai servizi in generale. Se noi troviamo delle modificazioni del comportamento dei nuovi casi, ci dobbiamo porre delle domande. Cosa è successo? È cambiato qualcosa? È cambiato qualcosa in maniera costante? Dobbiamo andare a studiare quindi gli eventi che possono coinvolgere sia i contesti di vita delle persone, possono coinvolgere il funzionamento dei servizi, eccetera, eccetera. È chiaro che uno strumento del genere non riesce a dare risposte di tipo eziologico, di origine delle malattie, ma può dare dei suggerimenti, quindi può dare delle indicazioni per l'andamento epidemiologico delle patologie nella popolazione, per costruire degli studi sperimentali che possano rispondere alle domande. In realtà, essendo, e quindi quello che viene fuori è che i record che noi leggiamo di questo sistema sono molto finalizzati a descrivere il funzionamento dei servizi, la continuità assistenziale, come si differenzia l'accesso al setting territoriale rispetto a quello residenziale, semiresidenziale, all'ospedaliero, quindi ci sono rispetto ovviamente ai disturbi, cioè alle diverse diagnosi. Però, d'altra parte, dentro il sistema esiste un nucleo di dati che riguarda l'individuo e quindi che contostalizza il disturbo rispetto alla persona, quindi alla sua età, al suo sesso, a con chi vive, a che livello di educazione ha, e quindi in realtà attraverso questo sistema si potrebbero affrontare domande di ricerca, però è chiaro che la sensibilità di chi compila la scheda di debito informativo, nonostante comprenda anche queste variabili individuali di cui ha parlato, spesso è spostata a riempire con maggiore compliance la parte che riguarda il funzionamento del servizio, piuttosto che quella che riguarda, per esempio, il livello di istruzione del soggetto di cui stiamo parlando. Allora, questo crea una certa, una certa, come si può dire, gap dei dati da questo punto di vista che può rendere difficile utilizzare questi dati per rispondere, per esempio, ai determinanti di salute mentale e sociali, che sono uno degli argomenti, diciamo, chiave con cui vorremmo interrogare sistemi come questo tipo, perché noi sappiamo che l'interazione tra salute mentale e condizione sociale è un'interazione molto stretta e quindi avere uno strumento per analizzarla sarebbe molto importante.